Piacenza è una squadra che non ha ancora vittoria ma proprio per questo è molto pericolosa perché sicuramente in casa vorrà cercare di prendere i primi due punti quindi dovremo prepararci meglio per un'altra battaglia Hanno tenuto un nucleo dell'anno scorso con lo stesso allenatore quindi è sempre un campo difficile quello di Piacenza hanno due ottimi americani quindi probabilmente questo campionato è molto molto equilibrato, molto tosto quindi le quattro sconfitte iniziali non devono far pensare che sia una partita facile anzi sarà molto difficile quindi dovremmo essere concentrati e bravi per 40 minuti per poterla portare a casa Ho avuto la sensazione che siamo una squadra che non ha paura di nessuno che lavora, che ha entusiasmo quindi penso che possiamo solo migliorare durante il corso dell'anno perché siamo una squadra giovane però sicuramente ci sono state ottime impressioni in questo inizio e dobbiamo cercare di fare sempre meglio proprio perché come dicevo prima niente scontato a maggior ragione in questo campionato Sarà importante l'approccio dobbiamo pareggiare il loro livello di energia perché anche loro sono una squadra giovane a cui piace correre e avere molta energia quindi quello sarà la cosa più importante Sì, sono contento di aver aiutato la squadra a ottenere questo vettore importante e anche nelle altre partite a dare il mio apporto so che la società, l'allenatore e i compagni contano tanto su di me quindi cerco di farmi trovare sempre pronto e quindi cerco di farmi trovare sempre